Nel 2016 raddoppiano le visite guidate al Palazzo Brocco di Via Alfieri 15. Due venerdì al mese, sempre alle ore 14, ci sarà la possibilità di vedere le sale auliche del primo piano e quella sotterranea con l'aula in cui si svolgono le sedute nel Consiglio regionale del Piemonte. Le visite gratuite, aperte anche ai singoli cittadini e ai gruppi, si svolgono su protazione, da effettuare direttamente online sul sito www.cr.piemonte.it o per telefono al numero 011 57 57 509.